Allora richiudato che non vuoi farla a serio la faccio io, ok? Allora questo è da raccontare perché fa ridere praticamente ci siamo, allora innanzitutto dobbiamo premettere che stiamo facendo un servizio fotografico, giusto? Non mi caga, comunque praticamente a parte che stavo arrivando sul lago di Garda e mi è uscita la spia, pressione pneumatici quindi mi sono dovuta fermare, sono arrivata in ritardo e il povero Riccardo mi stava aspettando da tipo mezz'ora. Poi siamo arrivati, abbiamo cercato un posto in cui scattare ovviamente sulla spiaggia, ma si è fatto troppo tardi e quindi abbiamo il sole contro per cui ci stiamo spostando per trovare un'altra location, però siccome di spiagge qui non ne vedo molte, ce la faremo. Volevo farvi notare i miei stivali molto sobri.